quella che vedete nel video è una seppia o meglio la nostra esca per provare a catturare qualche predatore e nello specifico un dentice oggi scopriremo cosa è veramente successo durante la traina sott'acqua ma prima facciamo un piccolo passo indietro tutto comincia in una fresca mattina di febbraio se non lo conoscete già lui è stefano il mio compagno di pesca in barca in sardegna e queste sono le seppie che ieri con spirito di squadra è andato a pescare per poterlo usare oggi come esca ieri stefano ma mi hai invitato a prendere le seppie ma io ero incasinato questo lavoro ma ti serve una mano partiamo così dal porto di marina piccola a cagliari infreddoliti e alla cieca si vede una sega ma mo ricordo mo ricordo e così dopo una lunga e rumorosa navigazione arriviamo finalmente sul posto di pesca le seppie sono belle vive e non vedono l'ora di entrare in campo allora l'altra volta tu me l'hai criticato e lui si è offeso e si è pure rotto quindi devo trovare un altro bambino e rubai un altro neppi dopo aver catturato di nuovo ed innescato la seppia la mandiamo sul fondo sperando che qualche predatore la mangi la trenna col vivo è un tipo di pesca che non mi fa impazzire ma oggi ho deciso di riprendere tutto quello che accadeva sott'acqua scopriamo insieme cosa è successo realmente la seppia si trova a circa 60 metri di fondo ma vediamo tutto blu perché i primi colori a scomparire sono il rosso l'arancione e il giallo i pesci anche quelli più colorati sembrano tutti grigi come questa perchia pesce che solitamente è di un colore rosso acceso oltre alla perchia si vedono anche dei saraghi fasciati che seguiranno la seppia per un paio di minuti la seppia è una preda ambita da molti e prima viene seguita da una rata ma in questo caso la seppia è troppo grande per questo rata di circa mezzo chilo dal nulla compare anche un calamaro che si avvicina curioso alla seppia per poi ritornare negli abissi cominciano purtroppo ad avvicinarsi anche le tanute dei predatori terribili che in banco come tanti piragna sono in grado di attaccare e mangiare delle prede molto più grandi di loro come questa seppia la seppia però cerca di difendersi ad ogni costo e quando è viva ed allamata bene riesce spesso a sfuggire ai predatori come in questo caso le tanute infatti non sono riuscito a staccare neanche un piccolo pezzo di tentacolo e la seppia si avvicina sul fondo dove l'istinto gli dice che potrà trovare riparo sicuro tra le rocce mentre in superficie vediamo i movimenti della canna causati dalla seppia che scappa le tanute continuano a inseguire la preda finché a un certo punto vengono spaventate da qualcosa di molto più grande finalmente ci sono identici però non sembrano molto interessati alla seppia una grossa coda si vede sulla destra dello schermo mentre in superficie non ci accorgiamo di nulla i dentici continuano a passare ma stavolta non sono minimamente interessati perché la seppia è davvero troppo alta e addirittura la stiamo recuperando ignare di quello che ci sia sotto e purtroppo arriva al momento tanto temuto da chi traina col vivo le tanute stavolta una veramente grande si avvicinano alla seppia e cominciano a mangiare tentacoli e così facendo riescono a sfinirla per poi mangiarla con tutta calma in superficie ci accorgiamo che qualcosa non va e decidiamo di controllare l'esca per vedere se ancora viva purtroppo l'hanno vinta le tanute e della seppia è rimasto ben poco solo le parti più dure che non sono riuscite a mangiare mentre stefano combatte con le tanute io ho deciso di combattere veramente con le tanute contro le tanute ho creato un piccolo terminale che secondo me ha trainetta con quella striscia di quella seppia poveraccia le freghiamo e così mentre stefano continuo a pescare e registrare io decido di costruire una montatura molto particolare e molto semplice due ami messi in serie distanti circa 5 8 centimetri l'uno dall'altro con un fluor carbon dello 030 e un piccolo octopus bianco per coprire il tranello come ami utilizzo il big gun della mustat che sono molto robusti e anche se dovesse abboccare un dentice lo tirerebbero su senza problemi taglio una striscia dalla seppia appena morta cercando di farla più lunga possibile il calamaro sarebbe molto meglio però purtroppo non ce l'abbiamo ma in questo caso la seppia può funzionare ho aggiunto il polpetto di gomma non solo per dare più volume ma soprattutto per rendere più idrodinamica la striscia è ora di mandare sul fondo la mia esca e vedere se riesce a prendere qualcosa passano 20 minuti e non si vede nulla prova a recuperare per capire cosa è successo io l'avevo presa ma era una trascina ecco perché non sentivo le tanute perché stavamo sulla sabbia e ha mangiato l'amico del giaguaro qui guardate che che pinnaccia la trascina un predatore terribile che si nasconde sotto la sabbia è anche molto pericoloso per l'uomo e quella pinna nera che vedete vi può iniettare un veleno dolorosissimo ora la striscetta che ho usato molto improvvisata ci vorrebbe di calamaro un po più lunga però comunque sta funzionando mi sto divertendo più io che qualcuno rinnesco la seppia e stavolta le tanute cominciano a mangiare sul serio danno delle botte terribili alla canna e finalmente riesca ad agganciarne uno come andiamo? eh l'ho fregata eh vedi non si fa la traina col vivo si fa la traina col morto tre sette col morto tre sette col morto una tanutella una tanutella una tanutella caruccia eh purtroppo oltre alle tanute cominciano ad arrivare le prime perchie segno che forse sto pescando un po' troppo vicino al fondo o che forse l'esca è un po' troppo piccola decido quindi di aggiungere un altro amo per creare l'esca più voluminosa cercando di scoraggiare i pesci più piccoli vedete ho fatto una modifica ho messo il polpetto fitto un pochino più alto e poi c'è la strisciolina di seppia ci vorrebbe di calamaro vabbè ma questa offre il convento insomma e i risultati non tardano certo ad arrivare con delle tanute davvero belle che finalmente salgono a bordo questa è bella eh bella con questi ami le tanute si stanno allamando benissimo ed è davvero un divertimento pescarle comunque 2 a 0 io non voglio di niente c'è qualcuno che ammazza le seppie io le uso per motivi nobili ma lo devo fare già bravo e per motivi nobili decido anche di rubare la telecamera però purtroppo le mangiate non si riprendono bene però riesco a riprendere questo tonno che si avvicina incuriosito alla striscia di seppia meno male che non ha mangiato io non so se non ha mangiato le mangiate però continuano senza problemi e continuano a prendere tanute sempre più grandi bel maschietto eh neri tanute il maschio è più grande della femmina ed ha una marcata macchia viola e nera e soprattutto delle stirature bluastre meravigliose guardate che meraviglia di maschio c'ha dei colori preso benissimo e così mentre io riesco a pescare tanute su tanute con una tecnica relativamente semplice la vivissima seppia di Stefano continua a nuotare tranquilla senza che i dentici la infastidiscano anche se purtroppo le tanute le stanno completamente decimando io lo so che tu stai guardando le seppie perché quella che stai tirando ha già fatto una brutta fine e io sono contento di questa cosa perché ho finito l'esca mi è rimasta giusto una strisciolina no vabbè no non ci credo e alla fine anche Stefano con un amo enorme riesce a catturare la tanuta che si era mangiato i dentacoli della seppia come un piragna è forse l'ora di tornarsene a casa e anche oggi miseramente io che l'avevo detto che la draina col vivo è una fregatura la draina col vivo al denti ce la pesca brutte tutte e voi direte perché non sei capace a farla no non sei capace a farla che mi fa schifo però mi ha disturbato molto te lo dico la verità vai ci vediamo al prossimo video eh ciao ciao ciao